Che l'uomo è di voi? Non credo che dipendano da me poter dire questo. Non hai mai pensato a me? Le storie su Michelangeli sono tante, è un mito, è una leggenda. Spesso le leggende nascono anche dal fatto, dalla difficoltà, dal mistero che si crea attorno al personaggio. Lui era un divo naturale, nel senso che poi ciò che ha fatto l'ha portato ad essere considerato un mito. Lui di solito suonava poche cose, il suo repertorio si dice era molto limitato, ma conosceva tutto. Una sera suonò più di 60 sonate di Scarlatti, così una dietro l'altra. Prima di cominciare un concerto, io sono sicura, alzando gli occhi che lui vedesse queste immagini meravigliose. Poi partiva e il suo racconto era vincente. Una delle caratteristiche del maestro era quella poi di non fermarsi sulla scena a prendere applausi. Scompariva subito. Scompariva subito. Scompariva subito. Arturo Venetti Michelangeli fu, dal punto di vista tecnico, il sommo dei sommi. Cioè è un pianista che aveva una delicatezza, una supersensibilità che è difficile descrivere al giorno d'oggi. Anche perché non abbiamo paragoni. Noi non abbiamo pianisti che possano essere facilmente paragonati a lui. Scompariva subito. Scompariva subito. Scompariva subito. incredibile, mentre vedendo Horowitz suonare o altri pianisti ti accorgi che c'è un approccio più sanguigno. Quando si parla della perfezione che lui cercava, ovviamente un suono della mano destra scritto in partitura nello stesso tempo della sinistra dovrebbe essere suonato insieme. Lui li sfalsava a volte un po', allora immagino perché, non perché non abbia la tecnica per farli insieme, non perché non sappia che sono scritte insieme, perché aveva la paura che non fossero udibili tutti e due, quindi ci doveva far udire a noi, a noi pubblico, non a lui a casa sua, a noi pubblici, doveva farci udire quelle due note. Michelangeli aveva una scienza del tocco fenomenale che con lo stesso gesto apparente otteneva dei risultati timbrici diversi. I tecnici che hanno servito a Michelangeli tutti hanno parlato di esperimenti, di esperimenti, di prove, di incontentabilità continua di Michelangeli per avere un strumento in condizioni tali di funzionamento che gli consentisse di esplicare tutta la sua scienza del tocco. Prendiamo il caso, ad esempio, di un pianoforte che era qui, che il maestro aveva scelto, e ci dice che il pianoforte gli piace, ma vorrebbe che si cambiassero i rulli del pianoforte. Non è questo, naturalmente, il pianoforte che il maestro aveva scelto. Allora, qui ci sono questi rulli, ci chiede di cambiare questi per metterne altri che lui poi scelse. E noi, naturalmente, abbiamo tolto questi, messo i rulli di suo gradimento, e poi gliel'abbiamo presentato. Va bene, il pianoforte gli piace, però a un certo punto fa, Angelo, ma questo re non va bene, assolutamente. Ma allora noi guardiamo, eccetera, primo scappamento, secondo scappamento, guardiamo le percussioni, guardiamo tutto, ma diciamo, maestro, per noi va bene. No, no, non va bene, assolutamente. Non sapevamo più cosa fare, anzi, abbiamo detto, maestro, guardi, ci sono altri pianoforti. Mi scegliono? No, no, io voglio questo. Allora ci siamo rimessi a guardare, e abbiamo scoperto che noi, nell'incollare questi nuovi rulli, abbiamo messo il verso contrario, è quasi impalpabile, ma lui se n'era accorto. Non andava cercando la perfezione aritmetica dell'accordatura, cercavo qualcos'altro, un'anima, che non sta mai nell'iperperfezione, per intenderci, le nostre macchinette di oggi per accordare, che sono infallibili, a lui, secondo me, non sarebbero servite a nulla. Io ricordo, soprattutto un episodio sul finale della prima sonata di Schumann per violine pianoforte, finale che è una specie di moto perpetua, una serie di note veloci, eccetera. E suonammo questo finale, e alla fine Michelangelo mi dice, guarda che non è così. E mi dice, maestro, perché non è così? Ma perché? Perché se tu guardi bene non ci sono i punti sulle note. E io, infatti, suonavo quel finale come si suonava, come tutti suonavano, cioè saltando con l'arco sulle corde. E di solito noi facciamo questo quando ci sono i punti sulle note. E lui mi dice, guarda, non ci sono i punti. Dico, sì, maestro, ma è tutto separato. Sì, è tutto separato. E come devo farlo? Dice, lo fai alla corda, separando. E dici, maestro, ma non è possibile. E lui mi dice, perché non è possibile? Perché è troppo svelto. Eh, se l'hai detto, è troppo svelto. E lui mi dice, guarda, non è possibile. E lui mi dice, guarda, non è possibile. Mi ricordo una battuta che mi confidò in una visita dicendomi che una sonata di Beethoven richiedeva per lui almeno sei mesi di tempo, sei mesi di prove, di studio, di prove tecniche e al tempo stesso di prove, diciamo così, teoretiche. Doveva capire che cosa Beethoven voleva dire in quel brano, in quella parte. Non sembrava cercare di essere un vivo. Certo, chi si sottrae, pur essendo grande, chi si sottrae al pubblico, crea questa forma di diuismo che poi è una specie di innamoramento collettivo. Lei conosce di nome il maestro Benedetti Michelangeli? Sì, lo conosco, lo conosco proprio di persona. Lo ritiene un maestro molto popolare. Molto popolarissimo. È tornato in questi giorni in Italia dalla sua recente tournée nel Nord America. Sentiamo Turo Benedetti Michelangeli. Innanzitutto, quali sono state le tappe principali della sua tournée? Tra le particolarmente significative, posso citare New York, Chicago, la California in genere, Los Angeles in particolare. E infine il Canada, in tutto circa 40 concerti. E infine il Canada, in tutto circa 40 concerti. Michelangeli ha girato il mondo. Michelangeli non si è mai, diciamo così, negato i concerti, anche se non si è inflazionato come molti altri. Una celebrità è come tale perseguitato molto dalle persone. E allora ci permetta una domanda delicata, per così dire. Alcuni critici d'America hanno sottolineato un preteso freddo distacco tra lei e il pubblico. Come è evidente, si tratta di un fatto puramente esteriore e superficiale, svuotato quindi a priori di ogni sostanza polemica. A me sembrava molto teso e attento e forse anche impaurito dal pubblico. Ma come tutti i grandi, instaurava una relazione elettrica fra il suo poggiare la mano sul pianoforte e il batticuore del pubblico. Il fatto che lui non si curasse del pubblico, almeno così poteva sembrare, probabilmente derivava dall'estrema concentrazione che lui aveva in ciò che faceva. In realtà un rapporto col pubblico c'è sempre. Cioè questa idea che, ripeto, nell'interpretazione banale si chiamava freddezza, invece era un enorme calore che però era misto a una piccola quota di panico che lui aveva verso il pubblico. Cioè questa idea che si chiamava freddezza, Io credo che lei conoscerà perfettamente il maestro Benedetti Michelangeli. Sì, dato che è un mio illustre cliente, anche se un po' difficile, gode qui a Arezzo di una grande popolarità. Ah, è popolarissimo? Popolarissimo, molto, quanto il campione d'Agata. Allora è veramente un campione del mondo di popolarità, perché per un musicista, per un concertista, essere nel mondo d'oggi, popolare, come un grande campione dello sport, è enorme. Era cercatissimo, gli proponevano dei cachet incredibili e ovviamente lui non ha mai accettato questa logica della intensificazione dei concerti per essere strapagato, per, diciamo così, accumulare continuamente. Spesso il maestro veniva accusato di essere una prima donna perché annullava i concerti all'ultimo momento. Uno dei concerti che fu annullato all'ultimo momento fu quello di Londra, famoso. E perché il maestro lo annullò? Perché venne a sapere da un gruppo di fedelissimi amici che era stato incluso in un pacchetto turistico, tutto compreso, e questo gli risultò come fosse una coltellata violenta che impedì a noi di convincerlo a rivedere la posizione. Una cosa che pochi immaginano, pochi sanno, è che, disdicendo dei concerti all'ultimo momento, ha pagato delle penali fortissime. Ci concesse unicamente la possibilità di annunciare in qualche modo la notizia sul Times il giorno dopo, in maniera tale che potessimo attutire un po' le rimostranze di London Symphony Orchestra e di Barbican Center, cosa che poi evidentemente non riuscì, perché i rapporti con questi due enti si ruppero definitivamente. Michelangeli è nato a Brescia da genitori di origine umbra. La madre comprese subito le potenzialità artistiche del figlio, che guidò con severità e grande autorevolezza. La sua morte lasciò in Michelangeli una ferita indelebile. Il padre, insegnante di musica, era un uomo dal temperamento dolcissimo. Aveva un concerto ed è andato a suonare e quando è tornato è entrato nella stanza del padre e il padre gli ha fatto gli applausi con le mani. È stato l'ultimo gesto di comprensione, di amore fra lui e il padre. Credo che sia stato importante questo padre. Incontrai Benedetti Michelangeli a Napoli negli anni 50, iniziò negli anni 50, il quale volle ascoltarmi perché aveva sentito parlare di questo ragazzino, eccetera. Suonai per lui, mi ricordo, due capricci di Paganini e una sonata di Bach. In quell'occasione ricordo che lui stette immobile per tutto il tempo dell'esecuzione e poi venne da me e mi dette un buffo sulla guancia con le due dita. Vi assicuro che erano due dita talmente forti che mi fece abbastanza male. e mi fece boom così. È una cosa che lui faceva molto spesso quando era contento, quando gli piaceva qualche cosa. Lui dopo i concerti era allegro, si divertiva. rideva, aveva molto umorismo, prendeva in giro quelli che gli stavano appresso. Quando, per esempio, certe persone, certe signore, si mettevano davanti all'ingresso del conservatorio in attesa che lui uscisse, lui trovava sempre una porticina per scappare e quelle stavano lì come delle cretine all'aspettare, poverette. Qual è stato il rapporto di Michelangeli con le signore, con le donne? Con le donne? Beh, questo era affare suo. Michelangeli si sposa nel 1943 con una coetanea, Giuliana Guidetti, allieva di suo padre. Non ha mai avuto figli e ha vissuto di fatto l'esistenza di un nomade senza mai possedere una vera dimora stabile. Michelangeli sorrideva quasi mai. Cioè, io non l'ho mai visto sorridere, forse una o due volte. Una volta ho visto sorridere quando si è accompagnato a Torino in macchina, ma se no era sempre molto burbero, tant'è vero che io poi dicevo a Alessonoi ricordo a Buster Keaton perché non muove un muscolo della bocca. Qualche volta i baffi si muovevano un po'. Ma era veramente... faceva paura. Tanto è vero che Michelangeli poi si è avvicinato e diceva «Ma che? Ti faccio paura? No, tanto dobbiamo parlare di musica, non c'è altro». Suonò spesso alla scala negli anni Trenta. Allo scoppio della guerra, la sua fama mondiale e il suo essere spesso in tournée attenuarono l'impegno militare. Venne preso dai tedeschi in una retata e fu liberato fortunosamente. Il 26 giugno 1945, all'indomani della fine della guerra, tornò a suonare per la scala. Gratuitamente. Venne accolto per questo da una calorosa lettera di gratitudine firmata da tutti i musicisti dell'orchestra. E un'altra delle sue caratteristiche fondamentali di tutto il suo percorso durante la sua vita è stata quella di non aver mai concesso dei bis. perché diceva «Io arrivo stremato alla fine del concerto ed ho tutto, sia nella prima parte sia nella seconda parte e quindi ritengo di non avere più energie per dare qualcosa ancora di bello agli spettatori». «Io arrivo stremato alla fine del concerto» «Però venne fatta un'eccezione una volta, un'eccezione importante. Mi ricordo che avvenne al Gastaiga, a Monaco, con la Filarmonica di Monaco, diretta dal grande Sergio Selibidache e proprio al termine del concerto, con l'orchestra in piedi, con il maestro, all'improvviso Benedetti Michelangeli comincia a parlare lasciando stupefatti tutti increduli ad ascoltare il maestro che annunciava semplicemente che avrebbe dedicato alcuni bis al suo grande amico Sergio Selibidache. «Sul maestro sono state dette tante cose non vere e non giuste. Per esempio, lui ai concerti, il famoso fazzoletto nero, anche questo è stato accusato, un atteggiamento, è l'unico che usa il fazzoletto nero, eccetera. Io gli ho chiesto, il maestro, ma perché il fazzoletto nero? E mi ha detto, Carlo, perché quello bianco mi distrae. Lui aveva un modo strano di tessere i rapporti umani e questo suo modo, così attento, così generoso di essere, non l'ho mai più incontrato, mai prima e mai dopo. Di colpo mi telefonava e mi diceva «Vieni, mi incontro sulla via Cassia». Ma questo magari dopo settimane e mesi che non lo vedevo. Era una sorta di risultato della solitudine. qui sono io, Arturo Vetti Michelangeli e gli allievi. Questa è la prima foto ufficiale dell'inizio del primo corso di perfezionamento, 53. Michelangeli fondò il primo dei suoi corsi leggendari ad Arezzo e, cosa senza precedenti, era gratuito. L'aspetto poco conosciuto di Michelangeli, questo qui, perché naturalmente la fama di concertista è mondiale e risaputa, ma questo aspetto profondamente umano di attaccamento ai suoi allievi è veramente la caratteristica alla quale lui tiene di più. Non ha mai preso una lira dai suoi allunni, perché diceva che la musica è un diritto. È molto, direi quasi sempre, anche pagando di tasca propria il corso del noleggio del pianoforte. Venivano ragazzi dal mondo intero. Si formavano piccole comunità cosmopolite in cui lui si trovava a fare con la stessa dedizione il maestro, il pastore, il cuoco e il padre. Il corso è già iniziato? Si è iniziato il primo di luglio, quest'anno è iniziato prima. E quanti allievi sono? Sono una 35, di ben 10 nazioni. C'è anche un cinese per figlio. Anche cinese? Venuto apposta dalle cinese? Venuto apposta da Hong Kong. E questi allievi sono tutti concertisti? Tutti concertisti, alcuni docenti in conservatori, sono tutti allievi ultraqualificati, potrei dire. Quando mio padre è morto in una sciagura stradale nel 54, lui non mi ha fatto le condolianze. Mi ha telefonato e mi ha detto vuoi venire a studiare con me? Negli anni 60 Michelangeli aveva dei corsi che l'avvocato Agnelli gli aveva chiesto di tenere al castello di Moncalieri, vicino a Tolino. In quel castello gli aveva messo a disposizione 10 Steinway e a quei corsi partecipavano i più grandi pianisti che poi sarebbero diventati dei pianisti straordinari dopo, tra cui Maurizio Pollini, poi c'era anche Marta Argeri, c'era altri pianisti notevoli. Si stava tutto il giorno in un conservatorio. A ognuno degli alunni c'era la possibilità che studiasse su un pianoforte, perché c'erano diversi pianoforti. E poi alla fine della giornata si usciva tutti e il maestro ci portava in un bar a prendere qualcosa e lui rientrava in conservatorio e studiava tutta la notte. 16 maestri allievi dalle 8 del mattino tempestano su altrettanti pianoforti in obbedienza al programma fissato dal maestro. In genere i pianoforti vengono intabarrati con materassi ed esiste un ordine categorico. Guai a chi aprirà le finestre. Quello che mi ha sempre stupito è questa sua grande passione per l'insegnamento, probabilmente che non è di tutti, perché i grandi solisti, i grandi musicisti in genere non amano insegnare. Uno perché non hanno tanto tempo. Due perché probabilmente non sempre un grande musicista è un grande solista, è un'ottima insegnante. Il tronco deve essere morbido, ma diritto, non così. Così. Il suono deve uscire naturale dall'articolazione legata. Il maestro teneva moltissimo al legato, cioè non lasciare il tasto finché hai fatto quello successivo. Le corde sennò si offendono. Il utopio è così che è un grande attore. Il tronco deve uscire naturale. Il tronco deve uscire naturale dall'esercizio Ilيدock deve uscireugh Excelsior Il tronco deve uscire Sometimes character E quindi chi si bereEMθo aver lezione con lui perché lui passeggiava in su in giù alle spalle io per esempio suonavo e non mi fermava ho saputo da amici che hanno avuto modo di fare di avere un incontro con lui di studio ovviamente che lavorare insieme a lui con lui era interessantissimo quanto molto impegnativo perché da quanto mi hanno detto era capace di rimanere su due battute sull'interpretazione di due battute per molti giorni quindi per molte lezioni questa sensazione di postura strana veniva secondo me anche dalla impassibilità del volto era spiazzante vederlo in questa impassibilità guardate qualche volta delle farze di chaplin dove c'è chaplin che suona e vedete che ci apre in porta quella stessa impassibilità sul volto forse per attirare più lo sguardo nostro sui gesti la sua posizione è una posizione che sembra quasi sfiorare i tasti è sempre perpendicolare alla tastiera ed è sempre dentro la tastiera questa è una posizione che non si vede spesso soprattutto sembra quasi una specie di tecnica invisibile nel senso che sembra sembra quasi una magia perché poi alla fine sembra quasi non faccia sforzo Michelangeli stava molto composto fermo c'era un movimento anche del viso che diceva poco c'era qualche movimento del baffo che si raccoglieva ho pochissimi movimenti in avanti pochissimi movimenti di gestualità di questo tipo aveva una mano molto grande il suo mignolo era grande come il mio indice e la mano copriva 12 tasti e quindi poteva avere una postura molto più raccolta rispetto a chi la mano più piccola e quindi un giorno era in sala nervi in vaticano gli additi avevano contornato pianoforte diciamo questa sorta di palcoscenico con piante sempre verdi e fiori maestro a un certo momento però blocca il suo concerto si alza e scompare tutte le persone rimangono sconcertate allibite piene di punti interrogativi poco dopo il maestro ricompare e da ordine agli inservienti di portare via tutte le piante le sempreverdi quelle quelle fiorite eccetera eccetera e il maestro riprende a suonare con vigore con passione al termine si saprà che gli inservienti avevano trovato un grillo che faceva clic clic dentro queste piante sempreverdi solo l'udito del maestro quindi solo il maestro era riuscito a percepire questo suono piccolo del grillo il maestro portava praticamente sempre dei marlioni a dolce vita ed è stato accusato di appunto le solide manie sue della dolce vita invece non è così sempre col pullover di lana col colo alto fino sotto il mento d'estate d'inverno perché d'estate c'era che lo protegge dal caldo e d'inverno lo proteggeva dal freddo lui aveva 38 maglioni non so per quale motivo questo numero però dovevano essere 38 vari colori vari materiali ma dovevano essere 38 è accaduto anche questo episodio dopo un concerto che è stato tenuto in vaticano gli vennero dato le una rificenza dell'ordine di malta e diciamo così in cambio di quel concerto si sarebbe dovuto realizzare un certo progetto per beneficenza dopo un certo tempo michelangeli si accorse constatò vide che questo progetto non era stato realizzato secondo le promesse e le intenzioni e allora fece quello che forse pochi fanno riconsegnò le onoreficenze e ovviamente si staccò diciamo prese le distanze da queste insegne addirittura rifiutato otto lauree onoris causa anzi c'è una sua battuta che esprime molto bene questo rifiuto disse semplicemente ma io cosa me ne faccio di otto lauree onoris causa un giorno ho sentito dietro alla porta lui era chiuso nella sua stanza e con c'è da ripetere un suono era una nota non si da molle centrale a distanza di 3 4 secondi certo io sentivo arrivato l'ora di pranzo non si mangiava che il maestro anche un ottimo cuoco tra parentesi io mi sono dovuto arrangiare con dei cornetti che ho trovato connetti dolci poi sono andato a studiare e continuavo a sentire sempre questo si da molle arrivato l'ora di cena il maestro ancora a suonare questa nota si da molle e ho ricenato con questi cornetti che erano rimasti e verso le dieci di sera è arrivato il maestro tranquillo e diceva cosa vuoi mangiare carlo adesso il maestro andava alla ricerca della perfezione assoluta c'è un pianoforte che i tecnici della stanway costruirono è un fuori misura marrone un gran coda della stanway che costruirono proprio per michelangeli e il figlio di mina mi raccontò questo aneddoto ovvero sia lui arrivò 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 a provare con tutti i tecnici attorno a provare questo pianoforte lo suonò fece due tre note e poi disse non mi piace troppo dura la tastiera e lo lasciò lì a quel punto il tecnico di mina chiesero ma potremmo prenderlo noi eccetera eccetera e lo comprarono e lo acquistarono ora io vi posso assicurare avendolo suonato molte volte che in realtà quel pianoforte ha una una tastiera piuttosto pesante quindi evidentemente la sua cioè c'è qualcosa è un feeling cioè ho chiamato il tecnico in Svizzera quando avevo andato a guardare e gli ho detto secondo me questa tastiera è pesante e lui ha detto non è possibile perché ci sono ovviamente dei pesi che sono lui ha detto ha appoggiato il pesino un piombo sopra ha detto vede se io appoggio questo che è il parametro per cui il tasto si deve abbassare il tasto va giù ed era vero però alla la mia impressione era la stessa di Michelangeli accanto alla passione per i pianoforti coltivava quella bruciante per le auto da corsa la prima volta venne da me racconta nelle sue memorie Enzo Ferrari e mi chiese con un leggero imbarazzo una berlinetta usata poi ci rimase fedele e veniva spesso silenzioso quasi diafano con quella sua espressione sconcertante guidavo la macchina così come suonava una volta mi ha portato da Milano a Brescia nella Ferrari che gli aveva regalato Ferrari e volava con la macchina l'unica cosa che posso dire per esperienza personale è che non ho mai mai avuto tanta paura in macchina una sera dopo quelle famose lezioni a Moncalieri quando ci volle per forza accompagnare in città a Torino e dopo aver mangiato e anche bevuto perché insomma con lui non si mangiava solo e lui disse no vi accompagno in macchina con questa Ferrari da Moncalieri a Torino ci abbiamo messo credo un minuto e mezzo insomma una cosa di questo genere e devo dire che ho avuto veramente veramente paura proprio un momento di terrore tanto è vero che altre volte poi che voleva riaccompagnarci noi trovammo la scusa che c'era un'altra persona che doveva andare a Torino e quindi non volevamo disturbarlo per fare... ed è stato un momento tragico per me perché veramente una paura folle Michelangeli scompariva a volte dalla circolazione per settimane e nessuno sapeva dove fosse si chiudeva isolandosi dal mondo in un monastero francescano sulle alture di Arezzo amava molto San Francesco e per un certo tempo ha vissuto anche a Laverna quindi in un luogo francescano aveva una predisposizione affettiva per la montagna, elettiva basti pensare alle due baite di Rabi in Trentino dove ha tenuto anche la scuola di Pianoforte basti pensare ai suoi rapporti sempre a Trento col coro della Sat, Bolzano, l'insegnamento quindi tutte zone dove dominano la montagna potete essere un uomo timido all'infuori della musica sì, solo con la musica non sono timido all'infuori della musica sì, solo con la musica sì, solo con la musica di Pianoforte una manifestazione di grande commozione che ho visto ai Michelangeli l'unica che ho visto veramente Sicuramente in vita mia è stato quando ha saputo della morte di Lessona. Il maestro Arturo Benedetti Michelangeli, che sarà tra noi tra poco, mi ha pregato di fare gli onori di casa qui nella sua scuola di perfezionamento di Arezzo. Io vi presento il pianista che voi ben conoscete, Ludovico Lessona, vincitore del primo concorso internazionale di Bolzano, titolare di pianoforte nel Conservatorio di Torino. Suona per voi Scarlatti. Credo che sia stato uno dei suoi più grandi e più straordinari allievi. Lui aveva un concerto in Svizzera e io andai a sentire questo concerto con la moglie di Lessona, anche lei eccellente pianista, e quindi conosceva benissimo Michelangeli, eccetera. Dopo il concerto andammo a salutarlo e lui, come vide la Franca, la Franca Lessona, scoppiò a piangere. E per me fu un momento veramente terribile, perché vedere questa persona, così che in un certo momento scoppiò a piangere come un bambino, mi rimase molto, molto, molto impresso. Evidentemente Lessona per lui era veramente quasi, quasi un figlio. L'esilio volontario di Arturo Benedetti Michelangeli può essere spiegato in mille modi. Una delle cause è dovuta al fallimento di un'etichetta che aveva appunto, diciamo così, costituito con altri due soci. Il fallimento di questa impresa portò ovviamente il tribunale sulle sue tracce e gli vennero sequestrati pianoforti, gli vennero contestate appunto non poche cose. Si è come nascosto dal mondo, lì in Svizzera. Alla fine arriverà a Pura, ad abitare a Pura, in una zona molto tranquilla, molto serena. Credo che negli ultimi anni sia stato terribilmente solo, molto solo, quando stava in Svizzera. Era un esilio esagerato, una sorta di autolesionismo. Io l'ho rispettato, questo esilio. Ho continuato ogni tanto a mandargli dei disegnini. L'esilio gli consente innanzitutto di essere, diciamo così, tranquillo. Gli consente di isolarsi, gli consente di approfondire, gli consente di studiare. Gli consente di mettere a punto quei determinati meccanismi tecnici che l'hanno portato sostanzialmente alla perfezione. Non dimentichiamoci poi che fu un esilio che va inteso nel senso lato del termine. In Vaticano ci andava. Fortunatamente suonava in territorio Vaticano, dico fortunatamente perché ho avuto la fortuna di poterlo risentire alla Sala Nervi. Quando ha fatto il concerto, potevo dire, beh, quella sera ero lì. Io ho per esempio tre tappi di champagne che conservo perché questo champagne l'abbiamo bevuto insieme quando io l'unica volta che sono andata in Svizzera a trovarlo. Voleva sapere di tutti i teatri dove aveva suonato in Italia e ricordava la meravigliosa acustica del San Carlo. Lui diceva l'unico teatro al mondo dove posso suonare anche senza accordare il pianoforte. Lui diceva l'unico teatro al mondo dove posso suonare anche senza accordare il pianoforte. Di questa brutta storia la cosa che ha veramente fatto male al maestro è stata sicuramente la scelta dell'autorità di sequestrare indebitamente i pianoforti del maestro. Lui diceva l'unico teatro al mondo dove posso suonare anche senza accordare il pianoforte. Il sequestro dei pianoforti di Arturo Benedetti Michelangeli è secondo me una delle pagine nere della storia d'Italia. Qualcuno potrà sorridere perché insomma abbiamo pagine nere piene di sangue, di tragedie, come il sequestro di un pianoforte. Però pensare così ancora oggi di vivere in un paese dove il fisco è talmente irreprensibile, talmente efficiente, che sequestra il pianoforte di Arturo Benedetti Michelangeli. Allora tu pensi che vivi in un paese dove avrebbero sequestrato il pennello a Raffaello, la bicicletta a Moserra, no? E non tanto al maestro dispiacque il sequestro di denaro, pensi proprio questa parte qui, cioè i suoi pianoforti, i pianoforti che rappresentavano la sua vita, il suo mattino, il suo pomeriggio, la sua sera. Erano i pianoforti che stavano con lui e lui stava con i pianoforti e quindi possiamo dire che si trattò quasi di una sorta di amputazione per il maestro, dividersi e separarlo definitivamente dai suoi pianoforti e da qui la decisione di lasciare definitivamente l'Italia. che non volesse più avere a che fare con il governo italiano, lo Stato italiano, il fisco italiano, la gestione dell'arte italiana. Non è del tutto incomprensibile per un personaggio che naturalmente estremizzava tutto, estremizzava la perfezione del suono, estremizzava la fedeltà al repertorio, che aveva un rapporto sacerdotale con l'arte, per nostra fortuna. La fedeltà al repertorio Un'interruzione della quale non si è data una gran notizia perché cercavano di non gonfiare la faccenda, ma sono stati altri quasi due anni di interruzione per una paresi al braccio destro. Ma lui non sentava questa sofferenza. Dopo che sono andato a trevarlo, dopo due mesi perché non volevo vedere nessuno, poi finalmente forse la stava riprendendo, la prima cosa che mi ha detto dopo che mi aveva preparato il pranzo, che aveva di un'attenzione, di una sensibilità, io dico irripetibile. Allora si accomoda sulla sua poltrona, eccetera, eccetera, si accende il mezzo toscano, come usava a precisare che non è un toscano, è un mezzo toscano, e poi mi dice, come vedi, ho dovuto ricominciare da capo un'altra volta come un bambino. Ricomincia da capo e con una volontà sovrumana riconquista la forma, riprende a fare concerti in tutto il mondo. Ma qualche anno più tardi accade un altro evento drammatico sul palco del teatro di Bordeaux. Il maestro stava suonando e all'improvviso si blocca, si ferma e solleva piano queste braccia e poi si alza, allargando le braccia verso il pubblico, riesce a sussurrare aiutatemi, e poi crolla di nuovo giù sul pianoforte e tutti le persone che erano vicino rimangono attonite. I più veloci sono i medici di Bordeaux che comunque mettono in piedi un'unità di crisi eccezionale, quindi l'ospedale di Bordeaux è a disposizione completa del maestro e si fa il miracolo. Il maestro è salvato. Era una persona che non poteva morire, poteva rimanere. Il maestro è salvato. Il maestro è salvato. Nelle prime ore del pomeriggio, pochi amici e familiari hanno salutato Arturo Benedetti Michelangeli. Oggi dunque semplici funerali, in linea con uno stile di vita che non lo rese certo popolare, restio com'era a fare concessioni allo stesso pubblico che lo applaudiva. Herbert Russell, del Houston Post, è arrivato a scrivere. Egli è un superbo musicista e qualcosa di magico si riscontra in tutto ciò che gli presenta. Egli è un superbo musicista e la visione di Bordeaux, è arrivato a scrivere. L'amicizia di Michelangeli non è morta, mi accompagna sempre. Io non è che lo pensi, io ce l'ho dentro. È passato come un soffio, non è uscito di scena con gli applausi. Non ha cercato di lasciare traccia, ha lasciato una croce nula, senza una lapide. Egli è un superbo musicista e la visione di Bordeaux. Egli è un superbo musicista. Egli è un superbo musicista. Egli è un superbo musicista. Siamo entrati in un luogo segreto, mai aperto finora. dove sono conservate le sue casse e le sue carte. ci siamo chiesti cosa amasse leggere il maestro quando era da solo, nei momenti in cui riusciva a tenere le mani lontano da una tastiera. E scrutando tra i suoi libri, ad un certo punto, abbiamo trovato qualcosa che ci ha stupito. era un lettore fedele di Topolino. Egli è un superbo musicista. 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 Egli è un superbo musicista.